Buon venerdì a tutti! Oggi sono molto lieta di presentarvi questa azienda Casatie. Voi lo sapete io sono campana quindi sono sempre orgogliosa di presentare i prodotti della mia terra ma in questo momento voglio parlarvi un attimino di questa azienda. Il nome già è un suggerimento. Casatie immaginate qualcosa? Vabbè intanto apro e voilà vi faccio vedere cosa c'è dentro qualche indizio però adesso ve lo apro così lo capiamo bene insieme però volevo parlarvi un attimino dell'azienda. L'azienda è la riscoperta proprio degli antichi sapori della tradizione italiana partendo proprio dalla cucina napoletana. Casatie che sarebbe il casatiello di Petrone dal 1960 è sbaccato adesso anche online quindi veramente siamo tutti felici soprattutto chi vive fuori dalla campagna di avere questi prodotti di eccellenza appunto campana. Allora intanto volevo avvisarvi che la spedizione avviene entro 48 ore infatti guardate mi è arrivato subito e non vi dico il profumo che c'è già soltanto così quindi immaginatevi una volta aperto. Allora come potete immaginare si tratta di casatiello il casatiello che loro veramente fanno in tantissime versioni. Fanno il casatiello con la mozzarella di bufala campana con la provola di aggerola poi la fanno questa qui che si chiama Vesuvio con provola, salsicce e friarielli ma non trovate solo comunque il casatiello loro fanno anche la pizza di scarole quella con salsicce e friarielli fanno anche la tiella, la tiella di gaeta un po' rivisitata anche qui in tantissimi gusti che vi consiglio intanto di andare a sbirciare sul loro sito che è www.casatiello.com allora adesso andiamo insieme ad aprire questa meraviglia. Siete curiosi? Guardate che capolavoro cioè non potete sentire purtroppo il profumo quando inseriranno questa funzione su instagram sarebbe veramente il massimo della vita perché c'è un profumo fantastico. Adesso ve lo apro così vi faccio vedere anche all'interno e però mi raccomando voi intanto andate sul sito. Guardate che meraviglia ecco qui ve lo faccio vedere come è morbido sembra veramente già così appena sfornato però il consiglio che vi do per assaporarlo ancora meglio è di metterlo a 120 gradi per 8-10 minuti appunto in forno non nel microonde perché il microonde altrimenti lo secca ok? Quindi io scappo in cucina perché veramente non vedo l'ora di assaggiarlo e noi ci vediamo presto una buona giornata a tutti!